Il vento fa compagnia a tutti gli attori in gara nella seconda giornata dell'Alps Tour a Colli Berici, si sfoderano panci e approcci d'autore per domare i fairway e i green vicentini i professionisti capiscono immediatamente che sarà una lunga giornata La scelta del bastone da usare diventa una scienza quando le condizioni climatiche sono così si gioca un golf da ingegneri controllando gli errori, il carattere ed il proprio score Le emozioni non tardano ad arrivare sull'Alps e alla pausa pranzo la notizia più gettonata e il meno 7 totale di Enrico Di Nitto Il romano d'acciaio è al suo primo anno sul Tour e sta facendo bene in questa stagione 2015 Enrico gioca pulito e sa tenere la palla bassa Si guadagna oggi il rispetto degli stranieri, dei veterani dell'Alps Tour e conquista la vetta del torneo dalla quale proverà l'attacco finale La scena del pomeriggio è tutta per gli arbitri e la direzione del Tour Forte vento, acqua, fulmini e infine un'antipatica nebbia vengono ad impensierire i colli iberici Sono due le sospensioni di gioco e la decisione finale è quella di riprendere domani alle 7.30 il secondo giro In compagnia di Enrico con lo stesso score totale il vincitore della tappa tunisina Josh Logré L'inglese è calmo e sarà un grande avversario per tutti gli atleti in gara Domani il meteo sarà più clemente, la lotta è fantastica e il finale è imperdibile Noi siamo qua, pronti ad immortalare le braccia alzate del vincitore Swing Your Life